Ma mi sono emozionato, sono contento di non aver perso tempo, perché sai adesso ho 47 anni e arrivare in un punto dove vedi, incontri persone che non gli interessa quel momento, dici cavolo, ho tolto del tempo alla mia famiglia, ai miei atleti, invece no. Oggi è stato un bell'incontro, mi hanno trasmesso delle emozioni e speriamo che il nostro futuro sia migliore grazie a questi ragazzi. Ho visto qualcosa di me. Da piccolo, parliamo tantissimi anni fa, quando io facevo tante domande, facevo tante domande al maestro, c'erano tanti genitori che dicevano che io ero un bambino un po' scostumato, di indole, perché facevo sempre domande, il perché, forse non è così. E oggi l'ho notato anche in questi ragazzi, uscivano fuori delle domande, ma anche domande create un po' al momento, in base a quello che avevano ascoltato dalle mie risposte. E questo mi è piaciuto e mi sono ritrovato in loro. Che non ci sono buoni genitori, perché le nuove generazioni sono i nostri figli. Qualcuno questo lo dimentica o addirittura butta fuori così senza ragionare. I bambini sono eccezionali e nessun bambino nasce cattivo. Ma bisogna dedicargli del tempo. È facile comprare l'ultima figurina o comprare il giocattolo del momento o accendere la tv. I genitori devono dedicare del tempo ai propri figli. Questo mentre ne parlo con te lo sto dicendo a me stesso. Non esiste uno sport di squadra o sport individuale. Tutti gli sport, ma tutti i bambini abbiamo bisogno di una squadra. Ma non per vincere le Olimpiadi, per divertirci nella vita. Se non abbiamo una squadra, non possiamo andare avanti. Non riusciamo a correre, non riusciamo a divertirci, non riusciamo a sorridere. La squadra sono i nostri amici. La squadra sono le persone che ci trasmettono delle esperienze, che ci dedicano del tempo, che barattiamo. Questo so fare io, quello sai fare tu. Lo sport è una metafora. Io oggi parlavo ai ragazzi e dicevo io non sono qui a parlare di judo, della vittoria olimpica. Io sono qui a parlare di quanto la vita è bella e che nella vita bisogna vincere, non partecipare. Ma vincere non vuol dire essere più bravo di qualcuno. Il mio sport è migliore. Vincere vuol dire che tu dai tutta la tua solarità, tutti i tuoi sorrisi a questa vita e apprezzi e godi della semplicità della vita. Ci sono cose come il respirare, che quando un giorno, per un motivo o per un altro, vedi che un tuo amico fa fatica a respirare, o tu farai fatica. E lì sarà poi tardi per goderti quel respiro, quell'abbraccio e dici quanto sono stato stupido che non me lo sono goduto, no? E perché aspettare che una persona non sta bene, aspettare di perdere un caro per dirgli ti voglio bene. I giovani non dicono più ti voglio bene, ma forse perché i genitori, io ho sentito quella gretinata che sono tantissimi anni, i bambini si baciano quando dormono, ragazzi. Ma se non riusciamo a dire al nostro figlio ti voglio bene, se è la cosa più bella, se è veramente la mia passione, ma come speri che un bambino venga su con dei sani valori? Se tu sei il primo che lo baci di notte, ma ancora, ancora, abbiamo vergogna a volte di affrontare o di praticare, se si può dire, dei lavori umili. Cioè se un bambino dice, io da grande voglio fare il contadino, tutta la classe scoppia a ridere. Perché? 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 Perché oggi il modello vincente, ah scusatemi, il modello vincente, se la ragazza in classe alza la mano e dice, io voglio fare la letterina, o la velina, o voglio vincere il grande fratello, o voglio essere Ronaldo. Lì non si ride. Essere un Ronaldo devi prima imparare a fare dei sacrifici. E perché se un bambino vuole diventare un contadino e deve fare altrettanto sacrifici, tutti ridono. Gli avversari non sono quelli che incontri sul tatami, o sul campo, o nella pista, nelle competizioni. Gli avversari sono quelle persone che provano a spingere in avanti il raccomandato, che provano a ostacolare il tuo percorso, che provano con delle parole stupide e piene di cattiveria a dirti che non sei capace quando tu stai dedicando il tempo alla tua passione. Gli avversari, quelli che hai incontrato sul tatami, sono tuoi amici, hai condiviso una passione con loro. Prima ho detto ai ragazzi se le Olimpiadi di Sidene la ripetevamo il 19 settembre, cioè il giorno dopo, magari il podio cambiava, magari io non la vincevo. È un momento. se il brasiliano che è arrivato secondo quel giorno dimostrava che era più bravo di me, andava accettato. Quando c'è stata una domanda per tanti anni, mi dicevano adesso forse perché conoscono la risposta perché oggi conoscono più di quando ho vinto Pino Maddaloni perché Pino Maddaloni oggi non è solo il campione olimpico. Qualcuno mi diceva perché a Sidene hai vinto e a Pechino no? Semplice. A Sidene quel giorno sono stato il più bravo. A Pechino ho incontrato atleti che quel giorno erano più bravi di me. Se un ragazzo impara a rispettare anche il ragazzo meno forte impara a rispettare quello meno forte ancora impara a rispettare che la donna impari a rispettare l'uomo e che l'uomo impari a rispettare la donna e che il più forte riesce a rispettare quello meno forte e che c'è un rispetto che li accomuna questo è un qualcosa che ti dà forza perché nel momento che ti accorgi che un bullo come viene chiamato oggi non ti rispetta è una persona povera perché un essere umano può ritenersi ricco quando è pieno di valori e si gode la vita la vita quando ha questi valori un altro dei valori che incontri nello sport è il sacrificio sai quando tu sei abituato a fare dei sacrifici che lo fai per te per la tua famiglia per un obiettivo perché vuoi migliorare quando a fine giornata quando a fine di un percorso dici ma e ti guardi allo specchio e dici ma guarda che cosa ho fatto ho lavorato dieci ore guarda dove sono arrivato guarda che cosa ho prodotto questo dà sicurezza a un giovane questo giovane inizia sempre di più a credere in se stesso non è il risultato visto come medaglio premio guadagno che dà forza al ragazzo è il lavoro che ha prodotto e da che ti devo dire inizia col col judo che non riusciva perché nel judo la prima cosa che impari è la caduta e tanti ragazzi non riescono a cadere non riescono a rialzarsi velocemente e quello è un qualcosa che nella vita non è che ti è utile di più più ti rialzi e più sei forte questa è una metafora che lo sport ti trasmette già dai primi mesi perdere non è una vergogna perdere non è che non puoi rifarti è uno step del percorso che a volte parlare di giovani si pensa che che dall'altro lato ci siano bambini persone acerbe persone superficiali oggi ho avuto la conferma che non è così perché oltre quello che ho incontrato qui dal punto di vista organizzativo ma anche le domande che mi sono state fatte sono domande che mi auguro ecco che possono dare ma a me hanno dato tanto perché uno sportivo un uomo non finisce mai di conoscersi non finisce mai